E' alla ricerca di nuovi spazi per i suoi 1.350 studenti la dirigente scolastica del liceo Alfano I Elisabetta Barone che questa mattina ha compiuto un sopralluogo presso il centro sociale di Salerno per valutare con Menarcieri la presidente della Salerno Solidale, la società che ha in gestione la struttura, l'opportunità o meno di poter utilizzare gli ampi saloni del centro sociale come per esempio la sala teatro al fine di offrire ulteriori locali ai suoi studenti. La scuola in questo momento è in agitazione per un braccio di ferro con il vicino istituto comprensivo Quasimodo. Oggi davanti al liceo era in programma un presidio di protesta dei docenti e degli studenti che però non è stato autorizzato. Nel frattempo la preside Barone ha continuato il suo lavoro di ricerca di spazi in vista dell'avvio dell'anno scolastico in programma al netto di possibili proroghe il 14 settembre. La scuola aveva già bisogno di spazi lo scorso anno quando in assenza delle regole del distanziamento e delle norme anti-covid aveva già ottenuto di utilizzare quattro aule del vicino istituto comprensivo che però alla scadenza del prestito se ne è riappropriato senza aspettare un'altra possibile intesa. La dirigente scolastica è preoccupata in modo particolare per gli studenti che si muovono con l'ausilio di carrozzine e che hanno quindi bisogno di frequentare aule al piano terra. In realtà sono diversi anni che il liceo Alfano I soffre di carenza di aule e nonostante una politica di contenimento attuata in questi anni e il liceo è comunque abitato attualmente da quasi 1350 studenti su 58 classi delle quali 5 ubicate presso l'istituto Galilei e 4 classi erano allocate in 4 aule che ci erano state concesse e incomodato d'uso dall'istituto comprensivo Alfano Quasimodo. è scaduta la convenzione e l'istituto comprensivo non ha dato disponibilità a riconcedere gli spazi e l'ente provincia ovviamente ha restituito gli spazi all'ente proprietario. Quale avrebbe preferito che si fosse trovata un'intesa con l'istituto comprensivo che è vicino e che già aveva ospitato nel frattempo alla ricerca di nuovi spazi con una ricognizione come quella di questa mattina al centro sociale? Solo un'ipotesi che si sta percorrendo? Un'ipotesi che però è tutta da verificare perché ovviamente gli spazi disponibili sono quelli della sala teatro e delle due sale maggiori che comunque non risolvono il problema delle quattro aule che abbiamo perso e noi abbiamo classi con 30 studenti e abbiamo un problema reale che è quello dato dai carrozzati e ragazzi che hanno necessità di essere allocati in aule al primo piano, al piano terra e devo dire che l'ente provincia sta facendo tutti gli sforzi possibili insieme all'ente comune per individuare spazi che possano consentire alla scuola di aprire in maniera ordinaria il 14 settembre. Altre ipotesi a parte il centro sociale, abbiamo sentito che il Vescovo pure ha messo a disposizione gli spazi delle chiese e con la sua scuola sta cercando anche altrove. Sì, abbiamo chiesto ai parroci delle parrocchie limitrofe che hanno dato disponibilità in subordine però alle attività pastorali, nel senso che loro sono in attesa di sapere ci saranno doppi turni per i bambini delle scuole elementari perché in questo caso loro poi le attività catechetiche pomeridiane le sposterebbero al mattino e quindi non potrebbero darci quegli spazi. Siamo in affanno, in corsa tutti perché il problema degli spazi non è solo evidentemente dell'Alfano I ma è di tutte le scuole della città e stiamo cercando tutti di organizzare e di verificare e quello di stamattina appunto è un sopralluogo per capire quanti e in che modo potrebbero venire qui al centro sociale ma ovviamente questa è poi una questione che riguarda gli enti e noi abbiamo fatto solo un sopralluogo tecnico per verificare la possibilità concreta però è chiaro che qui parliamo soltanto di tre spazi quindi comunque non risolveremmo il problema dell'Alfano I in questo momento.